E qui c'è il palazzo, è tutto imploso, si è tutto infilato in quel buco, si è sgretolato in una faccenda di secondi, tipo un minuto, tutti morti, tutti morti purtroppo, tranne due persone che si sono salvate perché il letto si è girato, li ha protetti e quindi li hanno scavati fuori dopo 13 ore. Era il 16 dicembre del 1998 alle 3.09 della notte, un palazzo di sei piani in via di Vigna Iacobini nella periferia romana crolla in pochi secondi, in un grande polverone scompaiono 27 persone, tra loro 6 bambini. Un crollo come quello avvenuto ieri a Matera dove è morta una donna di 31 anni, 15 anni fa invece toccò a Foggia ancora una volta in piena notte. Lì una deflagrazione spaventosa polverizzò un palazzone che venne giù uccidendo 67 persone, tre storie diverse che raccontano un unico dramma, quello di vite sparite sotto le macerie e delle vite travolte dei sopravvissuti. E proprio un sopravvissuto ci porta sul luogo del crollo di Roma, 16 anni dopo. Roberto Anconetani si è salvato perché al momento della tragedia era in Polonia e anche il presidente del comitato vittime di via di Vigna Iacobini, a lui è stata consegnata la chiave dell'area dove un tempo c'era il palazzo collassato, ora c'è una voragine, un cratere enorme tra la strada e i palazzi vicini. A quella tragedia sono seguiti sette anni e mezzo di processi che si sono chiusi senza un colpevole. I quattro amministratori della tipografia che lavorava al piano interrato sono stati assolti nel 2006 per non avere commesso il fatto. Il processo ormai aveva solo un valore morale, il verdetto è arrivato pochi giorni prima della prescrizione. Secondo l'accusa della procura sarebbe stata proprio la tipografia a causare il crollo dello stabile, macchinari troppo grandi, risme di carta pesanti che gravavano sul solaio. Una risma di carta è una cosa alta così, larga così e quindi se uno la mette su un solaio, su un pavimento un po' leggero, normale, che non è stato fatto apposta di un capannone, rischia di sfondare questo pavimento. Secondo me questo è capitato quella notte. Per l'accusa sarebbero state le continue vibrazioni e un impianto potente di aereazione installato nella tipografia che avrebbero deteriorato il cemento dei pilastri fino al cedimento. Non ci sono problemi nel terreno? Non c'è stato il cedimento del terreno? Non c'è stato il terreno, non c'è stato il terreno. È vero che Monteverde e tutto quanto c'ha delle ricavità ma non c'è stato niente, quello anzi. È la struttura che è colorata, questo è stato riconosciuto. I superstiti sono rimasti così senza sapere chi fosse il colpevole di quella tragedia e senza una casa. Finora hanno vissuto in affitto in case comunali. Chiuso ormai il processo potrebbero costruire un palazzo sullo stesso terreno ma non vogliono farlo. Hanno chiesto invece che qui venga realizzato un parco per i bimbi del quartiere in memoria di quelli che non ci sono più. Sì, sì. Non so se mi vuole ridire qualcosa.